Una volta ancora ci troviamo di fronte a una delle penne più autorevoli della musica contemporanea, poi il genere della cronassonola è diventato un genere importantissimo. Ribadisco, il maestro Pericolo Dierna è l'autore della cronassonola di Picciritta, film di qualche anno fa, di Paolo Licata con una stupenda Lucia Sardo nella parte di Maria e Marta Castiglia nella parte della Lucia Piccolina, un film ambientato alla fine degli anni Sessanta, l'ultima dell'immigrazione dell'isola di Favignana e ha ottenuto tantissimi riconoscimenti questa pellicola per chi non l'ha ancora vista, soprattutto le sottolineature musicali che il maestro Pericolo Dierna ci ha regalato. Allora, ce l'abbiamo qua. Allora io l'ho preso un po' alla sprovvista, ma un po' siamo d'accordo perché devo mentire. Abbiamo preparato questa piccola chicca, se vogliamo anche per i più grandi, i piccoli che hanno la pazienza di ascoltare, perché ci regalerà come bis, prima del saluto istituzionale, un piccolo omaggio al pianoforte delle musiche di Picciritta. Grazie maestro. Applausi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.